Ristorante e pizzeria La Pausa. Per il tuo pranzo di lavoro, la cena con gli amici. Da Beppe e Tina, trovi il meglio della cucina napoletana. A Vicenza, in Viale San Lazzaro 65. Bentornati al nostro quotidiano appuntamento con le previsioni del tempo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione in generale prevista per lunedì 2 novembre. Sul nostro territorio prosegue l'influenza di un robusto promontorio di alta pressione con massimi di pressione oltralpe che favoriranno la stabilità atmosferica portandoci delle belle giornate soleggiate ma con valori termici in diminuzione. Ci dimenticheremo presto della parentesi di brutto tempo avuta la scorsa settimana ma passiamo a vedere l'evoluzione del tempo sul nostro territorio. Lunedì mattina il tempo sarà generalmente soleggiato sia in pianura che nelle valli con cielo sereno o tutt'al più poco nuvoloso. Stessa situazione al pomeriggio quando il cielo si presenterà nuovamente sereno o poco nuvoloso. Il clima sarà piuttosto gradevole per la stagione. Alla sera ci farà compagnia una splendida stellata in quanto il cielo continuerà ad essere sereno o poco nuvoloso pressoché ovunque. Per quanto riguarda la situazione dei venti soffieranno da deboli a moderati da nord-est in pianura fino al pomeriggio e prevalentemente deboli dai quadranti orientali sui rilievi. Diamo infine uno sguardo anche alle temperature. I valori previsti per la pianura e per l'alto piano di Asiago saranno quelli evidenziati in grafica. Grazie per la vostra attenzione e buon inizio settimana a tutti. Ristorante e pizzeria La Pausa Per il tuo pranzo di lavoro La cena con gli amici Da Beppe e Tina Trovi il meglio della cucina napoletana A Vicenza in Viale San Lazzaro 65